Ciao a tutti da Rosi, benvenuti a questo nuovo appuntamento con la nostra vetrina dell'auto in compagnia di Mocauto e siamo insieme a Paolo Montagna, brand manager dei marchi Citroen, Opel e Peugeot. Ciao Paolo. Ciao Rosi, un saluto e buonasera a tutti. Vi diamo il benvenuto a Mocauto, la città dell'auto che da anni garantisce la mobilità ai milanesi. Dove ci troviamo? Noi siamo a Milano, in via di Missaglio 89, facilmente raggiungibile con i mezzi e all'uscita della tangenziale di Rozzano. Sono certo che qui da noi potete trovare l'auto che state cercando, potendo vantare di uno showroom di oltre 30.000 m2 e 20 brand differenti con tantissime vetture anche disponibili in pronta consegna. Ma non parliamo solo di vetture nuove, perché qui da noi potete trovare anche un sacco di vetture usate, chilometri zero ed ex aziendali. E non è finita qui, perché solo da noi, solo da Mocauto, avrete la possibilità di trovare la nostra soluzione zero pensieri. In che cosa consiste? Non è nient'altro che una soluzione di acquisto adatta a tutti, privati e professionisti, che vi permetterà di abbattere il costo di guida della vostra nuova vettura. Ovvero, avrete un costo di guida omnicomprensivo di tutti i servizi, quali assicurazione casco, tagliandi ed estensione della garanzia, così che il vostro unico pensiero sarà quello di fare benzina e di godervi il viaggio sulla vostra nuova auto. Meglio di così, insomma. Direi di venire assolutamente qui a scegliere la vostra prossima auto e avere proprio zero pensieri per quanto riguarda l'acquisto. Giustissimo, Rosy. Oggi siamo qui poi nello specifico per parlare di due brand in particolare del gruppo Stellantis, quali Citroen ed Opel. Adesso andiamo a conoscere meglio la gamma con i nostri consulenti di vendita. Per Citroen abbiamo il nostro consulente Francesco, che vi presenterà la gamma del brand francese. Andiamo a scoprirla. Grazie Paolo. Buonasera a tutti, anche da parte mia. Eccoci qua, ben ritrovati. Ciao Francesco. Prima di lasciarti la parola permettetevi di presentarvi il brand Citroen. Inspired by you by Citroen è la filosofia e la mentalità del brand francese, ovvero quello di ispirarsi ai vostri bisogni e alle vostre esigenze per creare una vettura che vi permetta di semplificarvi la vita di tutti i giorni e che vi permetta di personalizzare con oltre mille caratteristiche differenti la vostra nuova vettura. Citroen è un brand dal DNA forte ma che comunque rimane al passo coi tempi e che continua ad innovarsi su tutta la sua gamma che adesso il nostro consulente Francesco ci presenterà. Ti lascio la parola. Grazie mille. Partiamo subito con la compatta di casa Citroen, la Citroen C3, la più amata per un utilizzo cittadino. È una compatta da 4 metri, 3,98 metri. In questo salone abbiamo la nostra C3 Max, l'allestimento quello un po' più accessoriato. Abbiamo già di serie il nostro cerchio in lega diamantato da 16 pollici, gli air bump laterali che appunto servono molto per la protezione delle sportellate durante un uso appunto cittadino. Abbiamo anche i fari full LED, il sensore di parcheggio posteriore, vetri posteriore oscurati e all'interno tutta la tecnologia già di serie. Apple Carpe l'Android Auto, abbiamo frenata d'emergenza, mantenimento di carreggiata, riconoscimento dei segnali stradali, sedili Advanced Comfort che è proprio il marchio di fabbrica di Citroen. Nuova Citroen C3 disponibile con tre motorizzazioni, partiamo dalla 83 CV disponibile anche per neopatentati, la 110 CV disponibile anche con cambio automatico e la nostra diesel per chi ha bisogno di fare qualche chilometro in più. Nuova Citroen C3 può essere vostra a soli 12.900 euro con Formula Zero Pensieri. Passiamo adesso al B-SUV di casa Citroen, una delle più apprezzate, il C3 Aircross. Nella versione U abbiamo praticamente già tutto un comfort di serie. Sedili confortevoli, abbiamo cerchi in misto lega da 16 pollici, sensore di parcheggio posteriori, barre al tetto perché bisogna un po' più di spazio per i viaggi e per le trasferte un po' più lunghe. Le motorizzazioni sono tre, sono la 110 CV manuale, la 110 CV automatica e la diesel. Con i suoi 4,16 m è molto versatile anche per qualche gita fuori porta. Non manca comunque la dotazione di serie come tecnologia, abbiamo Apple CarPlay Android Auto, il riconoscimento dei segnali stradali, il mantenimento di corsia e anche l'aiuto a ripartenza in salita. Nuova C3 Aircross da un listino di 26.400 euro potrebbe essere vostra grazie alla promo Zero Pensieri a 16.900 euro. Perdonami Francesco, ho capito bene, C3 Aircross a soli 16.900? Sì, sulle ultime in pronta consegna. Passiamo adesso invece alla nostra C4. Citroen C4 con assetto rialzato per un maggiore comfort di guida con sedili Extreme Comfort tessuto misto pelle. La versione che abbiamo qua in salone è la nostra Plus con i cerchi da 18 in stile Airblade, sensori di parcheggio posteriori, telecamera con visore dall'alto e poi una serie di accessori tecnologici all'interno della vettura per una maggior qualità di guida. Con infotainment digitale, strumenti di guida totalmente digitali, abbiamo anche tutti gli ADAS di serie. Apple CarPlay Android Auto e navigatore non possono mancare. Venite a trovarci, venite a provarla nella nostra sede di Via d'Emissaglia, disponibile in tutte le motorizzazioni. Assolutamente sì. Diesel, benzina e full electric. La berlina compatta del brand Citroen per 4,30 metri può essere tua a soli 18.900 euro in pronta consegna. Passiamo infine all'ammirale di casa Citroen C5 Aircross. Un nuovo SUV completamente rivisitato con fanalleria full LED, cerchi da 19 in lega diamantati, sensori di parcheggio, telecamera di retromarcia, barra al tetto e un maggior comfort di guida. Comfort di guida dato dai sedili in tessuto misto pelle Advanced Comfort. Tutta la strumentazione digitale, sia il computer di guida che l'infotainment, Apple CarPlay Android Auto e navigazione. Già di serie, menzoni speciali per i sedili modulabili e un piano bagagliaio da oltre 500 litri. C5 Aircross disponibile da 41.000 euro, prezzo promo 27.900 euro con Formula Zero Pensieri. Avete capito bene, nuova Citroen C5 Aircross Max può essere vostra a soli 27.900 euro con 13.000 euro di vantaggi Citroen sulla gamma in pronta consegna. Grazie mille a tutti per l'attenzione, vi aspettiamo nel nostro showroom Citroen in via demissaglia 89 Milano. Un saluto da Francesco. Ci troviamo adesso nello showroom Opel, adiacente a quello che abbiamo visto prima di Citroen, sempre Milano, sempre via demissaglia 89. Opel Minded è la filosofia del brand tedesco Opel. I due pilastri fondamentali sono tecnologia e innovazione. Infatti grazie alle tecnologie all'avanguardia che permette ai propri conducenti di garantire un comfort di guida e una sicurezza senza eguali. Avendo sempre però un occhio di riguardo alla sostenibilità. Proprio a testimonianza della filosofia green del brand tedesco, tutta la gamma Opel presenta motorizzazioni ibride ed elettriche che adesso il nostro consulente Gianmarco ci presenterà. Grazie Paolo, buonasera a tutti. Inizio subito col presentarvi la nuovissima Opel Corsa. Vettura storica ma sempre attualissima, fiore all'occhiello di Opel. Quella che vedete qui in esposizione è la nuova Opel Corsa allestimento GS. Le particolarità dell'allestimento sono, come vedete, i cerchi in lega bicolore da 16 pollici con un tetto nero e loghi neri. A riprendere questa, diciamo, linea sportiva caratteristica dell'allestimento. Completamente rinnovato l'aspetto tecnologico e la sicurezza della vettura con il nuovissimo display digitale centrale da 10 pollici. Apple CarPlay e Android Auto inclusi totalmente wireless. Per quanto riguarda gli esterni abbiamo videocamera posteriore, sensori di parcheggio anteriori e posteriori per appunto una sicurezza ancora più implementata con i nuovissimi sistemi ADAS o assistenti alla guida. Abbiamo la frenata di emergenza intelligente con riconoscimento dei pedoni. Oltre al già presente assistente di corsia, in più Opel ha aggiunto una chicca che è l'assistente dell'angolo cieco, blind spot alert, che vi avviserà in caso di veicoli non visibili direttamente dallo specchietto retrovisore. Nuova Opel Corsa, prezzo di listino 21.400 euro, può essere tua all'incredibile offerta di 13.500 euro con soluzione zero pensieri. Avete capito bene, soli 13.500 euro per portarvi a casa la vostra nuovissima Opel Corsa. Passiamo adesso a Opel Mokka, SUV di segmento B della gamma Opel. Quella che vedete in esposizione è un allestimento Elegance. Caratteristiche principali sono i cerchi Lega 17 molto belli B-color con sensori di parcheggio anteriori e posteriori. Inoltre abbiamo anche per questa possibilità di collegare il telefono tramite Apple CarPlay e Android Auto, uno schermo centrale digitale da 7 pollici. In questa versione troviamo un allestimento B-color con il tetto nero, quindi personalizzabile anche in questo caso, fari full LED anteriori e posteriori, interni misto pelle e tessuto. Grazie mille Gianmarco, la macchina l'abbiamo vista, è bellissima, ma quanto costa? Allora, la Mokka parte da un prezzo di listino di 28.000 euro, in questo momento in promo solo da Mokkauto a 17.900 con soluzione zero pensieri. Che dire, venite a trovarci! Troviamo adesso la nuova Opel Astra, l'intramontabile berlina di segmento C del marchio, disponibile anche da pochissimo station wagon, motorizzazioni benzina, diesel o totalmente elettrica. In questo caso abbiamo un Opel Astra allestimento Elegance, particolarità dell'allestimento, come potete ben vedere, i cerchi in lega bicolore, fanaleria totalmente full LED, rinnovata per quanto riguarda gli interni, con un doppio display digitale da 10 pollici, riscontro adattivo di serie e con cambio automatico. Giustissimo Gianmarco, grazie mille. Non ci resta che invitarvi qua in Via d'Emissale 89 al Car War Center per venire a provarla, perché alla guida, credetemi, vi può regalare delle sensazioni veramente, veramente importanti. Non abbiamo parlato del prezzo. Allora, molto semplice, il prezzo della vettura con gli optional inclusi, in questo caso parliamo di 1.200 benzina, 110 cavalli, cambio manuale, prezzo di listino 29.000 euro, in promo solo da Mock Auto a 19.900 euro, con soluzione zero pensieri. Concludiamo con Opel Crossland, si presenta da sola SUV di segmento B, più economico della sua categoria, 4.20 metri di lunghezza, 410 litri di bagagliaio, versione benzina 1.2 110 cavalli, prezzo di listino 25.000 euro, in promo solo da Mock Auto a 14.900 euro, con soluzione zero pensieri. Grazie mille Gianmarco per averci presentato questa splendida gamma, ma non sono finite qui, perché ci sono ancora tantissime altre vetture da venire a scoprire, quindi veniteci a trovare, siamo a Milano, in via dei Missaglia 89, abbiamo tantissimi altri brand, nuovo, usato, chilometro zero, aziendali, possiamo proporvi finanziamenti, assicurazioni, abbiamo l'officina per garantire comunque la manutenzione della vostra vettura, veniteci a trovare. Vi aspettiamo. In via dei Missaglia 89, un saluto.